Ciao followers, buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova seduta con il vostro YouGuffo. Cari followers, buongiorno a tutti, io vi devo chiedere scusa perché sono mancato due giorni, sono stato fuori, però anche voi dovete chiedere scusa al sottoscritto. Adesso voi vi alzate in piedi e mi chiedete scusa, mi dovete chiedere scusa perché siete anche voi colpevoli. Mi avete tolto il sogno europeo di vincere l'europeo, non vi posso lasciare da soli neanche due giorni che voi capitanati da Gabri Gravina, avete fatto una bella figura di merendina all'europeo, usciamo contro la Svizzera. Io non ci sono e voi mi combinate questo affronto proprio ragazzi. Anche perché io dentro di me non sapevo che la partita era alle 6, io pensavo la partita fosse alle 9, io ero fuori, non l'avrei vista, però pensavo tra una cosa e l'altra di nascosto. Io apro diretta.it per vedere il risultato in tempo reale, visto che la partita non l'avrei vista, però pensavo fosse alle 9. Fino a quando poi ragazzi mi è arrivato un messaggio da parte della mia mammina, mi dice tuo padre è affratto, tuo padre sta quasi piangendo perché abbiamo perso 2-0 contro la Svizzera. In quel momento ragazzi non vi nascondo che c'è un piccolo Gabri Gravina dentro di me che faceva così. Ragazzi ghigno, proprio un ghigno di quei ghigni, ne parleremo adesso anche perché dobbiamo parlare di quello che sta combinando Gabri Gravina, non tanto per l'eliminazione in se stessa, ma in quanto a tutto quello che si sta inventando adesso il nostro caro Gabrielone per inventarsi, per non mollare di un centimetro la poltrona. Followers, prima di iniziare, come al solito, sigla. Cari followers, Gabri Gravina ci fa sapere, avanti tutta con il progetto, io non mi dimetto e attenzione perché io non scappo davanti ai problemi ma li risolvo con i lavori. Allora innanzitutto il lavoro, parliamo di questo, è un lavoro di merda perché visti i risultati che abbiamo ottenuto, se i risultati si possono chiamare, abbiamo fatto una bella figura di merendina. Poi quando lui parla di progetto, quale progetto? Dove sta il progetto? Il progetto non esiste, perché per fare una figura di merda come quella che abbiamo fatto noi, dove una piccola svizzera con freuler prende la sacca scrotale e te lo appoggi in testa. Voglio dire, risultati, progetto proprio, io non ne vedo. Poi tutti che si stanno arrabbiando con Spalletti. Spalletti, Spalletti, Spalletti non ha colto, Spalletti non ha mai vinto una ceppa in carriera. Lui quell'anno che hanno deciso a tavolino che doveva vincere lo scudetto il Napoli, lui si è trovato lì e ha fatto adesso lo sbruffone, fa così, che deve dare la mano ad Allegri per far vedere quanto è pirla. Alla fine lui non c'entra niente, non è mai stato vincente, a parte che quell'anno hanno deciso a tavolino che doveva vincere il Napoli e lui era lì e lo ha vinto. Molto meglio della cartonese, perché i prescritti l'anno successivo, ossia l'anno scorso, hanno detto deve vincere l'Inter quest'anno, hanno deciso. E l'Inter non ce la faceva, neanche con l'aiutino. Hanno dovuto montare la Marotta League, hanno dovuto coinvolgere la VAR di Rocchi, aiutino ogni cazzo di partita, perché sennò questi non erano nemmeno in grado di vincere il campionato. Però ragazzi, non si tratta di questo. Se dobbiamo dare la colpa a qualcuno, io dico che la colpa ce l'hanno i giornalisti. Quando parlo di giornalisti non mi riferisco a Raffaele Caruso di turno, perché ragazzi, un giornalista piccolo, giustamente sui social, sa che parlare male della Juventus ti fa guadagnare quattro spiccioli, e lui diventerà famoso ma non illustre, perché? Perché giustamente a lui non importa di beccarsi insulti dalla mattina alla sera, per quattro spiccioli lui lo fa. Il problema sono i giornalisti veri, cioè quelli che a livello nazionale sono una vergogna. Non hanno parlato di mezza parola per dire, questo qua, gravi ne si deve dimettere. A parte per nullà, nessuno lo ha fatto. E la conferma l'abbiamo avuta ieri sera, avete visto ragazzi? Fa una domanda del cazzo, il nostro Tancredi Palmeri, fa una bella domanda del cazzo ad Ebruin, e Ebruin giustamente gli dice stupido. Gli dà dello stupido, perché fa una domanda del cazzo. Non sono in grado, fanno delle domande stupide, quando poi non sono in grado di fare comunque dell'informazione. Questo qua ha fallito dappertutto, da quando è in FIGC, al contrario di quello che lui dice, ha fallito in tutto e per tutto. Questi cazzo di giornalisti italiani non hanno mai azzardato a dire una cosa, a parte per nullà. Nessuno ha detto Gravina si deve dimettere. Giornalisti italiani, voi siete la causa numero uno di questo, siete i responsabili, perché Gravina può fare quello che vuole, lui si può attaccare alla poltrona, lui lo farà perché lui è così, è avido di soldi, avido di potere. Voi avete permesso che il calcio italiano cadesse nel baratro più profondo. Voi perché siete dei corrotti e siete dei venduti, la colpa è vostra. Voi giornalisti italiani vi dovete vergognare, siete i primi responsabili di questo scempio. Giornalista italiano vergognati, ti sei venduto per un tozzo di pane, sei una vergogna. Tu, giornalista italiano, sei la causa numero uno, sei il responsabile numero uno di questo scempio calcistico che abbiamo visto all'Europa, vergogna. A parte questa cosa che volevo dire del giornalismo italiano, dove giustamente loro dicono che Gabri Gravina, sono il migliore da quando esiste la FIGC, io sono quello che ha fatto meglio di tutti, siamo i più bravi. Allora, Stadi Nuovi non ne ha costruiti, numero uno. Poi, siamo stati comunque come nazionale italiana, siamo stati proprio lo zimbello d'Europa e del mondo. Ogni cazzo di competizione ci sta, a parte quell'episodio strano che siamo riusciti a portare a casa gli europei, lì sì che l'abbiamo portata a casa grazie al blocco di una squadra in Italia, ma lasciamo stare questa cosa. Stadi Nuovi non ne ha costruiti. Devo fare le riforme, ormai la riforma non può più attendere, faremo la riforma sicuramente adesso. No, no, ma proprio ora, vedi, proprio ora stavo telefonando a casa, adesso devo fare la riforma. Come chiudo la chiamata con mia madre che mi sta preparando i biscotti alla Nutella? E dopo facciamo la riforma. Adesso, proprio imminente, riforma, riforma. Non ha riformato una mazza. Ha fatto delle norme ad hoc per salvare alcune squadre e hanno fatto delle norme ad hoc per punire la squadra che di fatto era quella più avanti di tutte in Italia, la Juventus. Perché deve vincere ogni anno una squadra diversa. Ve la siete inventate. Avete fatto di tutto per punire, per mettere i bastoni tra le ruote, per rallentare, per castigliare, per affossare la Juventus. E poi avete fatto delle norme ad hoc per salvare i cartonati che non hanno una lira, che non si possono iscrivere. Avete rovinato la Covizoc, vi siete infiltrati pure lì. Quando la Covizoc, io non lo so se prima funzionava o meno. Fatto sta che adesso la Covizoc è diventata una barzelletta e si sono pure dimessi. Perché siete arrivati pure lì ad infiltrarvi con la Covizoc. Dove c'è un presidente che è in galera, gli tolgono il passaporto, ha fatto buffi a destra e a manca, ha dei debiti dappertutto, lo cerca tutto il mondo. Questo sta in galera, non ha il passaporto e tu, quello della Covizoc, solo tu riesci ad immaginare che questo qui può dare una continuità aziendale. Solo tu della Covizoc, dove tra l'altro c'è una piccola differenza. Io che sono un tifoso cartonato da quattro soldi, posso pure andare nel bar e dire la Juve ruba, noi siamo bravi, abbiamo continuità aziendale. Quello lo può fare, perché un tifoso da quattro soldi, tu, il tuo lavoro, il motivo per il quale tu rubi lo stipendio, è per controllare questi cazzo di conti di questa squadra. E non ne sei capace, tu della Covizoc. Bravo Gabri Gravi. Un altro applauso per Gabri Gravi. Oh, comunque, complimenti perché effettivamente avete pure beccato una bella multina di quattro milioni di euro. Questa volta non è come Barella, Barella 80 milioni e parlate del vecchio conio, come dice l'imbecille tifoso della vostra squadra. Non è il vecchio conio, sono quattro milioni di euro di multa per aver, ve lo dico subito, l'antitrust infligge alla FIGC, una FIGC vuol dire federazione interista gioco cartonato, quattro milioni di euro per abuso di posizione dominante. Dal primo luglio 2015 fino ad oggi, secondo l'autority, la federazione ha attuato una complessa strategia escludente per rafforzare la propria posizione dominante. Nell'organizzazione di competizioni calcistiche giovanili a carattere agonistico, praticamente tradotto. Un bel cetriolone nel culetto per il nostro Gabri Gravina. Vedi che cosa succede a fare il comandante del cactus? Adesso ti becchi pure una bella multa, però loro sono i migliori, eh? Da quando c'è la FIGC lui è quello che ha fatto meglio di tutto, poi vabbè la multina, dai. Chi volete che non prenda una piccola multina per eccesso di velocità, alla fine stiamo lì, eh? La stessa cosa. Per non parlare poi della Marotta League, questi bei calendari che hanno fatto tutti per favorire un'unica squadra. Chissà quale, eh? Noi non diciamo nulla, eh? Perché poi non voglio che si parli di Marotta League, non diciamo quale squadra hanno favorito, eh? Bravo, complimenti Gravino. Un altro punto a favore, senza poi parlare di quel poco che restava degli abbonamenti da Zone, di Sky, quella roba lì. Ah, pirateria, adesso noi combattiamo la pirateria. Avete raso al suolo il numero dei pochi abbonati che vi rimaneva. Vogliamo parlare poi di quello che succede con questa storia dei diritti della televisione. I bei risultati che hanno ottenuto. Ci facciamo il nostro proprio canale. Adesso la Lega, la Lega italiana avrà il suo proprio canale dedicato. Noi non abbiamo bisogno di nessuno. No, avete avuto delle offerte a ribasso. Non era mai successo prima, eh? Complimenti. Eppure, cari followers, noi i presupposti per fare un europeo da urlo ce l'avevamo tutti. Alla fine c'era Marotta che accompagnava sempre la squadra e giustamente noi furbescamente abbiamo pensato questo si porta la sala VAR da Lissone, si porta Rocchi con tutta la combricola e alla fine ragazzi vedrai che Barella, allenatissimo per buttarsi sempre per terra, li fanno così col dito, li danno il rigore alla nazionale, invece no ragazzi. Purtroppo non ha funzionato, neanche Marotta ha funzionato bene. Però ragazzi, il nostro giornalista che per Antonio Masi, abbiamo detto prima, si sta impegnando per essere praticamente quello che fa, il giornalista che fa le figure di merda e il numero in quantità superiore di gran lunga a tutti quegli altri. Ed è lui, il Raffaleone Caruso, che lui diceva, uffa Barella, ci farà vingere sicuramente l'europeo da solo, però se non gli mettono i bastoni tra le ruote, questo il turno ce lo fa passare perché è fortissimo. Ci credeva il Raffaellazzo, ci credeva, però purtroppo ragazzi alla fine non si è verificato il sogno di Raffaellone, però alla fine ragazzi avevamo anche questo, avevamo Lele Adani da parte nostra, dalla nostra. Lui che dice sempre che quello che dice si avvera sempre, dicevo, vedi che Spalletti, alla fine è la migliore scelta. Mai l'allenatore fu più adeguato di Spalletti nella scelta fatta in Spalletti, quindi abbiamo il migliore, quindi abbiamo il migliore, quindi abbiamo il migliore. Effettivamente, cari ragazzi, Lele Adani, voi sapete, che colui che viene con le scarpe di pezza e uno zainetto tutto rotto e lui viene senza nulla dalla San Martinese, lui le azzecca a tutti. Cari followers, la seduta con il vostro YouGufo termina qui. Io vi ricordo il momento tenerezza, è importante l'iscrizione al canale, siamo quasi arrivati a quota 2000 iscritti. Vi ricordo che chi non si iscrive al canale, ragazzi, è uno stupido certificato De Bruin come il nostro Tancredi Palmieri.